Teramo si distingue per la bontà dei risultati sulla sostenibilità urbana e arriva tra i capoluoghi di provincia top 20 in Italia. A San Cirlo è Lega Ambiente che in collaborazione con Ambiente Italia e Sole 24 Ore ha fotografato le performance ambientali dei capoluoghi italiani e redatto il rapporto Ecosistema Urbano 2021. Mentre quasi tutte le città italiane non decollano facendo registrare un sostanziale immobilismo Teramo si è invece particolarmente distinta in ogni campo preso in considerazione dallo studio relativamente al 2020. Il punteggio ai 105 capoluoghi di provincia è stato assegnato sulla base dei risultati qualitativi ottenuti per le sei principali aree tematiche. Aria, acqua, rifiuti, mobilità, ambiente urbano e energia. Con il punteggio di 62,62 Teramo si attesta così al ventesimo posto. La prima città in graduatoria è Trento con un punteggio di 84,71. Il capoluogo a Prutino è primo tra gli abruzzesi distanziando di parecchio la seconda che è l'Aquila in 56esima posizione. I dati più significativi riguardano l'incremento della percentuale di raccolta differenziata che vede anche qui Teramo prima in Abruzzo con il 69,37% conquistando il 39esimo posto a livello nazionale e il decimo posto per produzione di rifiuti urbani annui pro capite. Menzione speciale anche come best practice del comune di Teramo nell'approccio in base al quale le amministrazioni pubbliche integrano i criteri ambientali nelle fasi del processo delle gare di acquisto incoraggiando la diffusione di tecnologie ambientali. Soddisfatta l'assessore comunale a ramo, Martina Maranella, è un risultato molto positivo per la città di Teramo che ci pone all'avanguardia. In un anno particolare come quello del covid, afferma Maranella, sapere di essere al decimo posto per la produzione di rifiuti dimostra che stiamo andando nella direzione giusta.